E la figura più cara e celebrata è quella di San Giovanni Gualberto, fondatore dell'Abbazia di Vallombrosa. Carabinieri forestali in festa nel giorno di San Giovanni Gualberto, loro patrono dal 1951. L'Abbate Generale ha celebrato la funzione religiosa seguita dal picchetto d'onore al cospetto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Teo Luzzi. Una ricorrenza ripresa dopo un anno di stop a causa della pandemia. L'occasione è stata buona anche per ricordare l'impegno quotidiano dei Carabinieri forestali, oltre il classico impegno. Sono felice di essere qui e anche molto riconoscente all'impegno dei Carabinieri forestali. Io credo che dobbiamo tutti essere grati a loro, non solo per l'azione di contrasto che fanno nei confronti di tutti quei reati che riguardano la sicurezza ambientale, ma anche per questa importantissima azione di promozione culturale. Durante la funzione è avvenuta la consueta donazione solenne dell'olio per la lampada votiva del Santo, quest'anno offerta dall'Umbria. La Fondazione San Giovanni Gualberto ha proceduto anche alla donazione di borse di studio a orfani di Carabinieri forestali o ragazzi bisognosi. Siamo ritornati a stare insieme e poter di nuovo riprendere quella che è una tradizione, a quale noi come Carabinieri forestali ci teniamo tanto. Santo Padrono che è un simbolo, non soltanto dal punto di vista spirituale, ma anche dal punto di vista etico, laico, quello di richiamare ai valori fondamentali che sono quelli della protezione della natura, del paesaggio, della biodiversità e naturalmente quando diciamo questo vuol dire anche rispetto della persona e cura della persona.